ciao a tutti i ragazzi e bentornati sul nostro canale io sono andrea io sono anita e come sempre bagnati questo è curiosando lanzarote bene come potete vedere solo ma solo per voi dopo tre anni e dico tre anni abbiamo comprato il nostro primo ombrello oggi non siamo in una località ben precisa ma stiamo facendo un po il giro tra porto del carmen costa teghise e arrecife per farvi vedere dopo credo mezz'ora 40 minuti di pioggia le condizioni dei delle strade che ci sono qui a lanzarote adesso noi continuiamo qui il nostro video adesso siamo a costa teghise cercheremo di non bagnarci troppo anche se la vedo dura la vedo dura e ragazzi buon video e ci vediamo più tardi ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow! Grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Perché a Lanzarote è bello tutto l'anno. Tranne oggi. E tranne da due mesi a questa parte. Lì in fondo c'è Porto Calero. Non si vede mancè. Non si vede mancè. Non si vede mancè. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Corri, corri, corri. Grazie a tutti. Per fortuna abbiamo un po' di strada. Ci sono le gocce d'acqua. Pioverà da un quarto d'ora. Guarda che i pezzi è bello. I poverini stavano tagliando le palme. Ha buttato tutto lì. E' un po' di strada. 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 Il mare Un marotonda col mare Benvenuti a Puerto del Carmen Allora ragazzi noi siamo Bagnati Marci Io mi sono dovuto togliere anche le scarpe perché avevo le scarpe che colavano acqua Abbiamo strezzato i calzini E io direi che se questo video almeno non arriva a 100 like ci arrabbiamo seriamente Non ne facciamo più con la pioggia Basta, quando c'è la pioggia niente video Quindi mi raccomando almeno bisogna arrivare a 100 like Detto questo noi andiamo a casa Ci andiamo a asciugare a fare la doccia bella calda perché fa anche freddo Vi diamo appuntamento come sempre forse a domani ore 20 Sempre qui su Curiosando Lanzarote Ciao ragazzi Ciao a tutti